buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti e benvenuti benvenuti a questo secondo webinar di bego un webinar dedicato alla metallurgia odontotecnica che sarà presentato dal signor Gaetano Quaranta Gaetano Quaranta vive a Torino ha fatto gli studi di odontotecnico e dopo le prime esperienze come odontotecnico il laboratorio decide di prendere un'altra strada e sviluppa rapporti di collaborazione con importanti aziende del settore dentale aziende esperte nella fabbricazione e distribuzione di materiali dentali la sua diciamo skill lo porta a dedicarsi con particolare attenzione alla metallurgia formandosi con importanti conoscitori della materia come il signor mauno mauro manaresi e la dottorella dottoressa clara cassinelli dal 2001 si dedica anche alle nuove tecnologie cad cam presentando relazioni e programmi formativi ad odontotecnici italiani esteri ha ricoperto per tanti anni il ruolo di trainer e technical consulting presso Bego Bremer Gottschlangerei e prosegue la crescita professionale ed attualmente è il country manager Italia per la stessa compagnia vi lascio alla presentazione lascio la parola al signor Gaetano Quaranta vi auguro una buona visione e vi do due informazioni di servizio durante la presentazione avete la possibilità di inviare delle domande alla chat la chat sarà visibile dagli amministratori al termine della presentazione il ci sarà ci sarà un uno spazio dedicato alla risposta delle domande vi saluto e vi lascio alla visione della gaetano a te la parola grazie grazie mille alessandro anche da parte mia un buongiorno ben trovati tutti quanti purtroppo in questo momento ci troviamo a fare relazioni di questa tipologia con questo web devo essere sincero io preferisco molto il contatto umano con le persone durante le presentazioni si possono ottenere sicuramente confronti maggiori più risultati però bego ha deciso di intraprendere questa strada io assolutamente ho sposato e ringrazio di cuore le persone che hanno potuto far permettere queste queste attività in modo particolare proprio il collega alessandro mecca che ha seguito e ha gestito tutta l'organizzazione dei web per quanto riguarda bego ci troviamo oggi qui ad affrontare un argomento che è comunque un argomento molto contemporaneo è un argomento che riguarda la metallurgia odontotecnica il mio compito in questa ora è quello di analizzare con voi un po i nostri metalli all'interno del nostro settore come vengono utilizzati e in quale forme si presentano sicuramente uno dei primi aspetti che dobbiamo tenere in considerazione e che nella metallurgia odontotecnica le leghe attualmente sul mercato sono leghe di cobalto cromo e nickel cromo e titanio tendenzialmente sono questi i materiali che vengono in media utilizzati per la realizzazione dei dispositivi vi posso garantire che sul mercato ci sono varie forme di cobalto e varie forme di titanio perciò lo ritengo estremamente importante farne un'analisi e conoscere gli strumenti per la trasformazione di questi metalli il primo è lo strumento più storico in assoluto che tutti quanti noi conosciamo e si chiama fusione la fusione delle leghe preziose e del cobalto cromo del nickel cromo ci ha accompagnato per molti anni nel settore dentale e ancora oggi è decisamente molto molto presente anche in fase di questa ripresa che andremo a intraprendere tutti quanti assieme sono convinto che le fusioni continueranno a restare una parte vitale per il laboratorio odontotecnico essenzialmente per i costi per i tempi di realizzo e per l'impegno che possono richiedere ai colleghi poi vi è la parte del laser melting che è già una parte più articolata dove vi è la necessità di avere delle apparecchiature industriali per poter fare la realizzazione di questi dispositivi medici e infine il fresaggio il fresaggio è un argomento che è entrato in maniera decisamente importante nel nostro settore qualche anno fa con l'avvento della zirconia che era l'unico modo per ottenere queste strutture ad alto valore estetico però dopo la zirconia sono arrivati tantissimi materiali nel fresaggio e anche il cobalto cromo gioca un ruolo decisamente importante oltre che il cobalto cromo vi è anche il titanio per la realizzazione di barre, di strutture, di Toronto di tutto quello che riguarda i dispositivi avvitati su impianti inizio subito a parlare di fusione qui vi ho messo due composizioni chimiche di leghe che generalmente si trovano sul nostro mercato la prima è una lega cobalto cromo e vi prego di notare che la quantità di cobalto è maggiore della quantità di cromo e per questo motivo le chiamo leghe cobalto cromo vi è del tunsteno, vi è del mollibdeno, del gallio, del ferro, del silicio e altri componenti questa è una formulazione media delle leghe che troviamo sul mercato che ci possono interessare altrimenti ci sono anche le leghe a base nickel dove vi è il 64% di nickel il 22% di cromo, mollibdeno, silicio, borio e altri componenti vi è una cosa molto importante che voglio sottolineare su questa tipologia di metallo le leghe a base nickel non sono state bandite dal settore dentale all'interno delle leghe a base nickel vi era un componente che si chiamava beriglio ed era un componente che aiutava molto la parte estetica del metallo perché aveva un'ossidazione quasi dorata però è un componente purtroppo cancerogeno perciò nella maggior parte dei casi gli utilizzatori di queste leghe nickel cromo hanno cercato di eliminare il beriglio dall'interno perché è proprio cancerogeno per l'operatore per noi che fondiamo, per noi che rifiniamo, per noi che trasformiamo questo metallo cosa diversa che non lo è per il paziente perciò uno potrebbe pensare sì, allora vendo un prodotto che non contiene beriglio e sono tranquillo sì, ma la fase di trasformazione ci riguarda molto molto da vicino nelle leghe invece per il laser melting troviamo nel settore dentale quasi solo ed esclusivamente una composizione chimica che è il cobalto cromo esistono anche macchine per fare il laser melting con leghe a base di titanio ma non sono così diffuse nel settore dentale il titanio è una polvere estremamente pericolosa nel trasporto ecco perché non vi è una presenza così importante come quella del cobalto cromo e infine vi faccio vedere nella parte del fresaggio per quanto riguarda le parti metalliche abbiamo sempre un cobalto cromo che vedete può sembrare molto molto simile a questa lega della fusione ma vi sono comunque già delle differenze nella sua composizione chimica e infine vi sono due tipologie di titanio un titanio a grado 4, lo stato puro perciò è 100% titanio e un titanio a grado 5 dove vi è una componentistica di lega fatta da vanadium, alluminio e titanio e il titanio rappresenta in media il 90% di quella che è la sua formulazione chimica questa è un po' la fotografia dei metalli delle parti in ferro che costituiscono il nostro settore adesso una volta fatta questa analisi io con voi vorrei avvicinarmi ad analizzare ogni singola lavorazione e gli aspetti necessari che dobbiamo tenere in considerazione per ottenere il meglio da queste leghe queste leghe sono difficili da trattare ormai abbiamo una certa esperienza io non voglio insegnare niente a nessuno voglio però riorganizzare un po' con voi quelle che sono le idee sui protocolli di lavoro perché il non rifacimento di un lavoro all'interno del laboratorio odontotecnico ci permetterà sicuramente di avere dei costi di produzione più bassi e questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione proprio per questo motivo vi dico che la prima parte che analizzerò assieme a voi sarà quella delle fusioni perciò sulle fusioni ho deciso di comportarmi in questo modo ho preso in considerazione delle leghe le ho confrontate e queste sono le composizioni chimiche dei metalli quando utilizzavamo le leghe preziose avevamo la possibilità di analizzare con molta attenzione la componente aurea la componente di argento il platino, il palladio facevamo attenzione perché avevano un determinato costo oggi questi metalli hanno un costo molto molto basso siamo intorno al 0,40, 0,35 mediamente al grammo perciò si è un po' lasciato perdere quella che è l'analisi chimica reale delle componentistiche delle leghe che costituiscono appunto le leghe vendute nel nostro settore e per questo motivo cosa ho deciso di fare? ho preso quattro leghe il primo gli ho dato anche un nome e cognome che si chiama Virobond 280 che rappresenta l'azienda per la quale lavoro dove vi è una composizione chimica così articolata il 60,2% di cobalto chiedo scusa il 25% di cromo il 6,2% di tungsteno il 4,8% di molibdeno e vi posso garantire che il molibdeno in tutti questi elementi chimici è quello che ha il costo più elevato in assoluto come elemento chimico poi vi è del gallio, del ferro, del sinicio, del manganesio e altri componenti perciò davanti a questa diapositiva la prima cosa che dobbiamo guardare è che queste leghe non sono tutti uguali queste leghe di questi concorrenti B, C e D sono leghe sempre cobalto-cromo perché hanno una formula molto molto simile ma notiamo subito che in alcune di queste due leghe manca per esempio del tungsteno o le quantità di molibdeno sono decisamente molto ridotte o non vi è assolutamente nessuna traccia di gallio oppure in quegli elementi secondari dove si dedica veramente una piccolissima attenzione vi sono tanti componenti che arricchiscono e vanno a completare quello che è la percentuale di leghe della formula chimica della lega fatta questa prima analisi ora vediamo con voi le stesse quattro leghe che abbiamo visto prima non spaventatevi non vi farò vedere tutti i numeri nel dettaglio queste sono le quattro leghe questa è la lega A, la lega B, la lega C e la lega D e di conseguenza guardate tutti i parametri che costituiscono questa lega uno degli aspetti più importanti che tutti quanti noi guardiamo quando acquistiamo una lega cobalto-cromo è tendenzialmente la durezza di questo metallo e io vi ho subito messo in evidenza quella che si chiama durezza Vickers che viene misurata in HV10 e notate, le durezze Vickers cambiano notevolmente ne abbiamo una da 2,80, una da 4,30 una da 3,75 e una da 2,85 però vi chiedo la cortesia di non limitarvi a guardare soltanto la durezza Vickers per sapere quanto una lega si lascia rifinire bene sotto la fresa un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione sarà un parametro nelle proprietà meccaniche perché la durezza Vickers è semplicemente la possibilità di un corpo ad avere più o meno una penetrazione all'interno del metallo ma noi nelle... e qui vedete come si misura la durezza Vickers c'è un punzone di una piramide a base quadrangolare e questa è la penetrazione del punzone sul nostro campione si misurano le due diagonali e grazie a un calcolo viene fuori quella che è la durezza Vickers della nostra lega nelle proprietà meccaniche che teneremo in considerazione in questo momento vi è un argomento che si chiama allungamento in percentuale l'allungamento in percentuale è una delle unità che ci serve tantissimo per fare una valutazione della durezza di una lega perché noi quando rifiniamo un metallo abbiamo una fresa al tungsteno che farà una prima indentatura sulla superficie metallica poi noi tiriamo la nostra fresa e andrà a pettinare la nostra struttura ecco l'allungamento in percentuali quelli con qualche annetto in più si ricordano sicuramente che gli allungamenti in percentuali nelle leghe aure erano strategici quando dovevamo andare a brunire un metallo per fare una chiusura su un bordo un metallo aureo invece con queste leghe cobalto-cromo non c'è questa possibilità di fare una brunitura per sigillare un bordo di chiusura avremo soltanto l'indentatura della fresa e la fresa che scorre verso l'avanti perciò quando noi rifiniamo una lega e la rifiniamo in questo modo perciò facciamo scorrere la fresa sulla superficie dobbiamo tener conto che la rotazione della nostra fresa farà così prima indenterà la superficie metallica e poi scorrerà verso l'avanti perciò questo allungamento in percentuale è un dato che assolutamente va in parallelo con quello che è la durezza Vickers adesso vediamo che cosa vi sto raccontando perché se io metto in evidenza gli allungamenti in percentuali di questa lega vedo che questo metallo avrà un allungamento in percentuale del 14% la lega B del 5% la lega C del 6% e la lega D del 10% cosa significa tutto questo? significa che un metallo con una durezza Vickers di 280 e un allungamento in percentuale di 14 non vi dico che è molto simile a una lega palladiata ma sicuramente è un metallo che ci darà la possibilità di essere rifinito con più serenità un altro argomento che riguarda tutte e tre le lavorazioni sia il laser melting sia il fresaggio e sia le fusioni è questo è il coefficiente di espansione termica il nostro obiettivo è di evitare di arrivare a ottenere un risultato del genere in modo particolare queste sfighe si presentano essenzialmente quando siamo in fase di glasur quando abbiamo terminato il nostro lavoro quando ci abbiamo già lavorato parecchio sulla superficie di questo nostro dispositivo medico e per questo motivo vi voglio evidenziare solo alcuni punti questa è una foto di uno dei nostri maestri dell'odontotecnica Pier Giorgio Bozzo che risale, non voglio esagerare a 25 anni fa la porto sempre con me durante le relazioni perché mette molto bene in evidenza quello che attualmente già i software stanno facendo i software da modellazione prima c'è una modellazione anatomica di quella che è la struttura del dente e poi viene una riduzione questo succedeva con le mascherine quando si modellava la cera perciò avere strutture morfologiche adeguate in tutti i loro spessori per ricevere la ceramica è alla base del successo e alla base della riduzione delle crepe nelle nostre strutture un altro aspetto che spesso e volentieri mi viene chiesto dai colleghi e la compatibilità termica tra un metallo e una ceramica qui c'è una regola di base che mediamente un punto di differenza tra metallo e ceramica sono la giusta valutazione per non fare nessun raffreddamento su questa struttura se il punto aumenta perciò abbiamo un coefficiente molto differente tra metallo e ceramica allora dobbiamo iniziare lentamente a rallentare l'apertura del nostro forno e fare dei raffreddamenti lenti al nostro forno un altro punto sul coefficiente di espansione termica è le crepe che vi ho fatto vedere prima è quando le interfacce metallo-ceramica non sono ben preparate guardate queste immagini a microscopio a scansione elettronica questo è un ingrandimento di mille volte queste immagini qua dove la parte così chiara è il metallo questa parte qui è l'opaco e poi questa parte superiore invece è la ceramica guardate come l'opaco è compenetrato bene in tutte le superfici del metallo questa è un'ottima interfaccia questo è un sistema stabile questo è un sistema che non creerà nessun tipo di problema cosa leggermente diversa nell'immagine sotto sempre a mille ingrandimenti questa parte qui è il metallo vedete questa parte qui dell'opaco ha tutta una serie di micro bollicine su questa superficie e tutte queste micro bollicine daranno una instabilità al sistema ciò significa che quando il metallo ha la ceramica sopra e in fase di ciclo termico nel forno si riscaldano lo scorrimento della ceramica non sarà più adeguato come accadono queste bollicine su queste superfici metalliche ma essenzialmente le cause possono essere diverse il primo aspetto che vi prego di non sottovalutare mai è che le strutture in cobalto cromo e nickel cromo devono essere sabbiate in maniera adeguata perché bisogna fare una sabbiatura adeguata perché la bagnabilità della superficie metallica nei confronti dell'opaco è data e ridotta da una tensione superficiale che il metallo mette nei confronti del liquido del glicole del plastificante dell'opaco che noi applichiamo sulla superficie perciò dopo aver sabbiato non devono passare più di 30 minuti per iniziare l'applicazione del nostro opaco altrimenti si ricrea di nuovo questa tensione e la bagnabilità della nostra struttura non è più congrua come dobbiamo fare questa sabbiatura di queste nostre strutture? ma la sabbiatura di una lega cobalto cromo avviene essenzialmente a 250 micron con una pressione di 3-4 bar perciò una pressione decisamente importante ho due preghiere da farvi la prima è che questi 3-4 bar siano corretti se gli ugelli della vostra sabbiatrice non sono slabbrati e non sono troppo grandi perché altrimenti avremo una sabbia che esce in maniera non adeguata e la seconda di utilizzare una sabbia adeguata una sabbia con una purezza molto elevata perché deve lasciare sulla superficie metallica un imprinting della sua forma e ridurre quella che è la fase di ossidazione del metallo noi creeremo su questa superficie metallica con una sabbia adeguata una microtempra che ridurrà notevolmente anche quella che è la formazione degli ossidi e poi sfatiamo un mito togliamoci i dubbi che una sabbia a 250 micron possa rovinare una struttura che ha una durezza Vickers di 280 perciò anche su dei bordi molto molto sottili non abbiate paura fate delle sabbiature adeguate ok? questo è il primo aspetto poi ci sono altre 3 tipologie di problematiche che dobbiamo tenere in considerazione e si chiamano l'asciugatura bonding l'asciugatura dall'opaco impasta e i residui delle punte montate io vi prego di tenere in considerazione questi 3 aspetti perché dobbiamo evitare che succedano situazioni drammatiche come quella che è in questa immagine ovviamente credetemi io ho trovato le immagini peggiori che mi arrivano per darvi dal punto di vista grafico la sensazione dell'imperfezione ma guardate questa fotografia le leghe non hanno dei gas all'interno anche se noi fondiamo a cannello all'interno delle nostre leghe non vi sono dei gas che sprigionano vengono fuori durante la cottura che cosa accade? accade che quei residui delle punte montate dei glicoli dell'opaco impasta o dei glicoli dei bonding possono bruciare e quando bruciano si legano con l'ossigeno formano la nitride carbonica perciò queste bollicine che sono la sfiga del nostro lavoro mediamente avvengono verso la fine delle nostre lavorazioni quando c'è siamo in fase di grasura quando il ciclo di cottura avviene in atmosfera perciò c'è dell'ossigeno e si rega questo carbonio con l'ossigeno e forma la nitride carbonica perciò le asciugature di opaco e bonding devono essere estremamente performanti e fare attenzione alle punte montate che compriamo non fidatevi di roba che l'avete pagata poco vi costerà poi tanto ok finito l'aspetto dei trattamenti di superficie iniziamo a parlare un attimo delle leghe veramente perché le leghe dalla temperatura ambiente quando vengono messe all'interno del crogiolo per la fusione cosa fanno aumentano il loro volume guardate questo grafico questo tratto verde aumenta fino ad arrivare a circa l'1,32% quando finisce l'intervallo di fusione la lega si fonde completamente l'aumento di volume di questo metallo è pari a circa il 7,32% in fase di raffreddamento accade il processo contrario cioè le leghe ritornano di nuovo come prima questo succede nel crogiolo quando noi sciogliamo la lega pronti per buttarla all'interno del nostro cilindro entra nel cilindro e poi si raffredda noi dobbiamo rispondere a questi due processi essenzialmente con due aspetti il primo si chiama rivestimento perciò l'1,32% sarà la concentrazione di liquido acqua distillata e polvere che noi dobbiamo mettere all'interno della nostra miscela quando faremo rivestimento e il secondo sarà l'impernatura perciò un'impernatura adeguata compenserà quella retrazione del 6% del metallo dallo stato fluido allo stato solido questa immagine che vi sto mostrando in questo momento rappresenta un'impernatura in maniera molto indicativa su quelle che potranno essere le dimensioni dei canali quando parliamo di canale di ingresso perciò dalla matarozza fino ad arrivare la barra mediamente su questa tipologia di leghe utilizziamo un diametro da 4 mm per fare una barra di alimentazione un anuris punto interrogativo quello che volete un'alimentazione la nostra struttura si parte perlomeno dal 5 mm di sezione e si potrà aumentare a secondo della dimensione della nostra struttura la stessa cosa riguarda il peduncolo il peduncolo non dovrà superare una lunghezza di 3 mm e in questa lunghezza di 3 mm avrà una sezione di 3 mm poi abbiamo visto sempre tanti fili su queste nostre fusioni questi sono dei perni di sfogo perciò la lega cosa farà entrerà all'interno della nostra fusione andrà a riempire le parti più in alto poi tornerà indietro mentre torno indietro in questo punto voglio che lo sfogo dei gas funzioni e guardate dove è collegato è collegato sul peduncolo tra la travata e la barra di alimentazione mediamente questi sono dei perni che muoiono all'interno del rivestimento alla fine della fusione li troverete sgretolati vorrà dire che hanno lavorato bene perché si sono inglobati con l'aria calda che c'è all'interno del cilindro ultimo aspetto che vi posso sconsigliare e consigliare di tenere in considerazione sono gli acceleratori di solidificazione mediamente anche questi hanno un millimetro e perché vengono posizionati nei punti di contatto tra gli elementi perché io voglio che quando questa lega chiederà il 6% alla mia barra di alimentazione questa lega la chiederà alla barra di alimentazione non la chiederà all'elemento adiacente essendo questi dei fili molto molto sottili raffreddano subito e fanno sigillare immediatamente il passaggio qui in mezzo perciò ogni elemento in fase di solidificazione chiederà il 6% direttamente alla barra per poter essere compensato a questo punto vi faccio vedere anche questi due disegni perché mi aiutano molto a spiegare una cosa quando la lega entra qui all'interno del nostro canale di colata vedete percorrerà questa strada è molto importante che il canale di colata di ingresso sia non sulla stessa linea dei peduncoli come si vede in questa immagine molto ben dettagliata per quale motivo questo perché se queste strutture chiederanno il 6% di metallo alla nostra barra se hanno la stessa direzione del canale di ingresso cosa faranno lo chiederanno al canale di ingresso e magari non sarà sufficiente per alimentarli ecco perché se io li metto in maniera così dissassata mi facilito la vita ultimo aspetto che voglio tenere in considerazione e questa qui è una struttura non a caso con due elementi intermedi molto molto grandi guardate e la barra ha una sezione diversa questa è una barra del 5 ma in questo punto dove qui sicuramente verrà richiesto più metallo al nostro dispositivo alla nostra struttura la barra è stata aumentata perciò nessuno mi vieta di fare una barra del 5 di base e poi dove ho dimensioni più grandi delle mie strutture di aumentarle ulteriormente con della cera qui si vede molto bene questo dettaglio questo è un elemento intermedio perciò la barra avrà un'alimentazione maggiore a differenza di queste singole cappette vedete ultimo aspetto per i sistemi di riempimento centrifughe o presso aspirate nella maggior parte dei casi nei nostri laboratori in Italia vi sono delle centrifughe perciò con una centrifuga manterrò un'inclinazione di 45 gradi anti rotazione centrifuga per sfruttare al massimo la forza di riempimento in sistemi con pressione verticale invece il mio lavoro dovrà essere perpendicolare più dritto possibile nei confronti di quella che sarà il mio piano di lavoro la Bego ci mette a disposizione degli strumenti che io trovo fantastici geniali queste sono delle bacchette calcinabili guardate hanno un foro all'interno e ci aiutano a standardizzare a ripetere le nostre impernature con un protocollo di lavoro sempre costanti perciò bisognerà tagliarle di misura oppure se ho un circolare o strutture più grandi le posso mettere sui Bunsen e addirittura piegarle a ferro di cavallo le andrò a sigillare sui due lati estremi perché sono forati altrimenti entrerebbe il rivestimento e poi faccio la mia impernatura nel caso dell'elemento intermedio solo in questa zona posso aumentare quello che sarà la mia barra da 5 millimetri queste sono delle barre in resina calcinabili essendo forate in fase di calcinazione cosa fanno? subiscono una contrazione perciò si tirano su se stesse e non crepano nel rivestimento quindi su strutture più articolate più grandi più complesse avere la contrazione di solidificazione del metallo può succedere ecco perché consigliamo che anche in presenza di archi più grandi le barre possono essere sezionate così questa alimentazione lavorerà per questo questa alimentazione lavorerà per questo e così via ad andare notate i canali di ingresso sono sempre dissassati da quello che sarà l'ingresso della nostra modellazione questo è un video fantastico che io utilizzo spesso proprio per farvi vedere come la lega entra all'interno del nostro cilindro adesso riparte se lo analizzeremo assieme guardate la lega arriva percorrerà tutta la superficie le prime zone che si riempiono del nostro manufatto saranno queste e le ultime zone saranno quelle vicine al peduncolo ecco perché succede a volte che le nostre porosità nelle fusioni dove sono sulla spina su quel peduncolo su quel pernetto che va sulla nostra modellazione perché l'ultimo che si riempie ok abbiamo fatto un'infinità di corsi e di attività nella mia vita professionale e spesso e volentieri quando si fa un corso con dei colleghi poi per fortuna restano dei rapporti fantastici ci si scambia materiale fotografico eccetera eccetera questo è un collega che in questo momento non ricordo neanche più di quale città era ma mi aveva mandato queste foto e mi diceva ma sai Gaetano io mi sono ottenuto un'indicazione che mi avete dato la fusione è perfetta il metallo è stupendo però se guardo con attenzione la mia fusione all'interno di questa cappetta guardate vi è un buchetto vi è una piccola porosità cosa succede? io gli ho detto ascolta amico mio buon consiglio taglia la travata e verifica l'interno della struttura che non vi siano delle porosità che possono crearti un problema allora il collega dopo diverse mie insistenze ha tagliato la struttura e guardate cosa abbiamo trovato abbiamo trovato una voragine all'interno del punto di contatto della nostra struttura qui non erano stati messi né acceleratori di solidificazione e tantomeno aumentato la dimensione della barra quei due intermedi pieni avevano succhiato tantissima lega dall'elemento adiacente e in fase di contrazione della solidificazione guardate che cratere ora provate a immaginare una struttura del genere messa in forno per ceramica per fare le fasi di ceramizzazione cosa fa questa struttura ogni ciclo di cottura tenderà a muoversi e perciò non avremo più dei movimenti costanti e ripetibili e magari dopo il secondo movimento verranno fuori le crepe e io devo rifare il lavoro perciò partiamo bene dall'inizio partiamo bene con delle impernature adeguate così anche la fase di ceramizzazione del mio lavoro sarà sicuramente una conferma e io non dovrò rieffettuare delle lavorazioni mi sono ripromesso di inviare a tutte le persone che si sono registrate a questo webinar questo pdf questo pdf è una linea guida dei protocolli di lavoro che stiamo analizzando assieme c'è anche un troubleshooting cioè problematiche e soluzioni su quello che è la metallurgia d'ontotecnica per la begola non penso sarà difficile quando vi siete registrati avete lasciato un'email perciò riceverete un'email con questo pdf in allegato e lo potete utilizzare consultarlo e eventualmente contattarci per avere ulteriori informazioni bene il primo punto sulle fusioni in maniera molto rapido mi sono soffermato solo sugli aspetti più importanti posso dire che l'ho concluso adesso però voglio ancora parlarvi di un aspetto del materiale da rivestimento perché il rivestimento tradizionale e rapido ha due comportamenti fisici diversi questo è il rivestimento tradizionale perciò come si comporta quando facciamo l'espansione di presa che ce l'abbiamo fermo sul banco ha un'espansione dello 0,3% quando lo mettiamo in forno ha un'espansione in media dell'1,20% totale dell'espansione 1,50 questi sono tutti i rivestimenti speed che ormai sono presenti nei nostri laboratori chiedo scusa al tradizionale lo speed invece quello presente nel nostro laboratorio si comporta in maniera completamente diversa quando è sul banco ha un'espansione grandissima si muove dallo 0,85% e l'espansione termica è decisamente più piccola perciò i due rivestimenti hanno un'espansione uguale ma il comportamento fisico di questa espansione è differente vi aiuto con questi due grafici guardate questo è il rivestimento tradizionale quello che va su pian pianino la notte eccetera eccetera e questo è un rivestimento rapido questa è l'espansione guardate il punto 1 si trova qui lo 0,80% è questo ok guardate come aumentando la temperatura il rivestimento ha avuto una curva di espansione completamente diverso perché dobbiamo conoscere questo? è perché in base a quello che fondiamo dobbiamo avere la conoscenza perciò utilizzare un prodotto come potrebbe essere questo rivestimento veloce il bello a vestesse H con il suo liquido che va bene per le leghe preziose cobalto cromo ceramica dobbiamo sapere che se mettiamo dei pezzi calcinabili qui dentro abbiamo il rischio che questa espansione sia molto importante prima che inizia la calcinazione del rivestimento questo invece è un rivestimento tradizionale quello che vi facevo vedere prima e questo rivestimento che ha la possibilità di avere anche due liquidi per la sua espansione funziona in maniera lenta perciò se ho delle resine calcinabili le metto all'interno di questo rivestimento faccio andare sul rivestimento molto lentamente farò le mie fusioni e mi evito tutte quelle bavette quelle striature nelle fusioni che ho ok questo è lo stato attuale dei rivestimenti però cos'è accaduto è accaduto che sono nate queste benedette resine calcinabili per la stampa 3D queste resine calcinabili nella stampa 3D ci aiutano a fare le protesi parziali rimovibili come avete visto dal webinar di Vincenzo Liberati i giorni scorsi ma ci aiutano a fare anche strutture di questa tipologia perciò questa azienda ha inventato un prodotto che si comporta come un tradizionale ma lo utilizziamo veloce e questo secondo me è un aspetto per il tecnico strategico io posso utilizzare rapidamente in maniera fasta un rivestimento ma le sue espansioni sono controllate perciò viene uno specifico per Ponti e Coroni e uno specifico per quanto riguarda la protesi rimovibile a tale proposito ricordo che il collega Alessandro farà la sua relazione sulla stampa 3D e approfondirà notevolmente quelli che sono gli aspetti riguardanti le resine calcinabili le resine per provvisori le resine per definitivi della stampa 3D vi aspettiamo perciò martedì 19 maggio alle ore 11 per vedere anche la relazione sulla stampa 3D di Alessandro e adesso un po' di show voglio farvi vedere questi video fantastici sono tre fusioni in diretta con tre sistemi diversi uno è il vecchio e famoso cannello ancora molto presente nei nostri laboratori sopra avete due induzioni differenti una a destra del vostro schermo con la forza centrifuga e l'altra invece con l'induzione e il sottovuoto guardate il cannello ormai è quasi pronto per essere per lanciare la nostra fusione la lega si sta sciogliendo ha creato quella membrana unica sulla superficie ed è partita ed è avvenuta la fusione ora guardiamo sopra centrifuga induzione in in contemporanea perché più o meno il tempo del lancio sarà molto molto simile quello di destra è partito con la forza centrifuga e quello di sinistra invece è caduto particolarmente all'interno del nostro cilindro bene ci siamo ammazzate di lavoro per fare che cosa? per avere un dispositivo medico degno di soddisfare le esigenze del nostro clinico e in modo particolare anche le esigenze del nostro paziente a questo punto passiamo su una lavorazione che è il laser melting perché il laser melting nell'industria sia nell'industria meccanica che nell'industria biomedicale è decisamente presente da moltissimi anni e lo è anche nel nostro settore il laser melting ci permette di ottenere strutture realizzate con tecniche additive di una certa importanza vi voglio far vedere con calma questo video come si ottiene la polvere metallica per fare questo processo allora guardate vi sono due gas azoto e argon che vanno a nebulizzare quella che è la polvere fusa e si ottiene questa polvere che avrà una granometria intorno ai 10 micron questa polvere verrà controllata dall'azienda preparata e setacciata si toglieranno le particelle più grandi le particelle più piccole si terranno soltanto le particelle della stessa granometria e poi saranno confezionate e pronte per fare l'imballaggio e la vendita del prodotto queste polveri lavorano in diverse macchine voglio farvi vedere un po' che cosa succede nel mercato queste sono le granometrie di questa polvere della Bego guardate lo standard di queste polveri questo è invece un altro concorrente che ha granometrie leggermente più ruvide e leggermente differenti calcolate che questo segmento sono 50 micron perciò provate a immaginare e a vedere l'immagine e questo è il terzo concorrente guardate che granometria differenziata ok queste le condizioni di come si presentano le polveri più le polveri hanno una granometria omogenea più è facile in fase di produzione ottenere strutture estremamente omogenee compatte e non porose perciò quando voi contattate i vostri centri di produzione che vi fanno le strutture in laser melting assicuratevi di sapere sì sono bravi mi fanno pagare anche poco ma che tipologia di polvere utilizzano che tipologia di lavorazione fanno queste sono le domande che dobbiamo fare ai centri di produzione Vego ha una storia che parte dal 1890 ha lavorato sempre nella parte analogica per tantissimi anni adesso però dal 2001 si è concentrata particolarmente su tutta quella che è la protesi ottenuta con la la digitalizzazione e anche i materiali sono cambiati e nel cambio di materiali abbiamo realizzato anche una polvere dedicata alla protesi parziale rimovibile perciò alla scheletrica per tradurre ok? cosa significa questo? significa che questa polvere avrà una composizione chimica vedete diversa da una polvere per ponti e corone questa è la polvere per ponti e corone e questa è la polvere per la protesi elettrica guardate la composizione chimica è differente manca del tungsteno all'interno perché qui il nostro dispositivo deve avere delle proprietà meccaniche completamente differenti guardate i moduli di elasticità e le tensioni come sono diversi nei loro parametri perciò scegliere il materiale giusto è fondamentale per ottenere un corretto risultato questa polvere arriverà sul mercato entro la fine dell'anno e sarà dedicata solo ed esclusivamente alla protesi rimovibile adesso vi faccio vedere questo video fantastico guardate questa è una macchina che lavora e produce laser melting guardate il laser come si sta comportando con che velocità va a fondere tutte quelle microparticelle di polvere metallica utilizzerà determinate potenze in certe zone e potenze ridotte in altre questo punto si deposita sulla superficie un altro strato da 10 micron di polvere e così strato per strato fino a ottenere quella che è la lavorazione alla fine della lavorazione i dispositivi saranno sommersi nel piatto di lavoro guardate e qui verrà rimossa completamente la polvere e l'operatore potrà iniziare a staccare tutti i dispositivi e consegnarli al laboratorio odontotecnico ultimo argomento che voglio trattare con voi è il il fresaggio quando si parla di cobalto cromo credetemi nel nostro settore è entrato di tutto il cobalto cromo è un cobalto cromo industriale è un cobalto cromo che serve per fare tantissime cose quello che voi dovete assolutamente ricercare è un cobalto cromo dedicato al biomedicale che vi darà la possibilità di realizzare dispositivi medici non è molto difficile conoscere questo chi vi dà questi lavori vi può fornire senza ombra di dubbio del biocertificato del materiale che indica che realmente quel materiale è nato per la realizzazione di dispositivi medici c'è una norma non è un'invenzione di nessuna azienda ci sono normative europee che gestiscono e coordinano questi aspetti questi dischi possono essere realizzati essenzialmente con tre tipi di lavorazione io non so quante persone conoscono queste informazioni io sono stato costretto ad approfondirle perché lavorando nel nostro mercato devo conoscere molto bene che cosa diamo ai clienti e ai pazienti le lavorazioni per ottenere i dischi in covalto cromo possono essere fatte con un processo di fusione tradizionale con la metallurgia delle polveri oppure con un processo di fusione tradizionale ma con trattamenti termici a seguire adesso vi do alcune informazioni su questo e questa è la cosa più semplice che si può realizzare si può realizzare un processo di lavorazione che è una fusione percolata continua cosa significa si ottengono delle barre come queste che vedete il crogiolo ha fuso questa barra vengono rettificate perciò si toglie tutta quella parte di ruggine di ossidazione che vi è sulla superficie e poi queste barre vengono tagliate come delle fette di salame per ottenere quello che è un disco il disco che entra nei vostri laboratori questi sono i dischi più presenti sul mercato però se vi ricordate cosa accadeva con la fusione che avevamo una contrazione da solidificazione del 6,50% circa durante questa fusione di queste barre può accadere la stessa identica cosa perciò il rischio di ottenere delle porosità all'interno di questi dischi è molto molto alto se queste porosità vengono riscontrate dal cammista da colui che fresa questo disco allora si interviene immediatamente si blocca la macchina l'utensile è entrata in questa porosità e si ricomincia da capo ma se questa porosità è inclusa nel nostro lavoro e noi riduciamo la zona di connessione di una struttura di un ponte andiamo a indebolire quella che è la nostra struttura perciò la compattezza di questi dischi purtroppo non è eccellente però vi dico questi rappresentano io penso il 60% di dischi presenti sul mercato calcolate che è stato calcolata dai centri di produzione una media dell'8% di dischi con problemi durante la fresatura perciò questa percentuale sicuramente è più alta quest'altra lavorazione è la metallurgia delle polveri è una lavorazione estremamente costosa ma riduce veramente al minimo i rischi guardate come accade vi faccio vedere un video si ottiene sempre col processo di atomizzazione gas e azoto che vanno a investire questa lega fusa si ottiene la polvere metallica ma questa polvere metallica attraverso dei software viene messa dentro dei compattatori dove vi sarà del calore e della pressione e compatteranno in tutte le zone la polvere e ne faranno avvenire il processo di sinterizzazione questo processo di sinterizzazione darà un risultato di un disco che in superficie a guardarlo è un disco normale come tutti quanti gli altri ma avrà una compattezza quasi al 99.9% purtroppo e dico purtroppo perché il loro costo è molto elevato questi dischi all'interno del nostro settore sono veramente pochissimi e non se ne trovano ultima lavorazione è la stessa che vi dicevo prima perciò viene fatta una fusione viene fatta una barra come quella che abbiamo visto prima però poi cosa si fa a queste barre? queste barre vengono messe dentro delle macchine speciali che attraverso il sistema di induzione ne fanno un riscaldamento riscaldano di nuovo la barra e questa barra viene laminata a caldo per ridurre quella che è la compattezza del nostro disco questo è una buona via di mezzo tra un disco ottenuto con la tecnica delle polveri e un disco semplicemente fresato ha una quota di mercato abbastanza in linea ma Bego vende questa tipologia di dischi e la loro superficie è decisamente estremamente compatta non arriviamo al 99.9% di compattezza però vi faccio vedere questa immagine a microscopio scansione elettronico questo è un disco medilloy fuso e trattato con trattamenti termici e questo è un disco soltanto fuso guardate tutti questi micropuntini sono tutte le porosità che ci sono all'interno di questo disco altro aspetto e questo è molto interessante per chi fresa perciò per chi ha macchine industriali e può eseguire fresaggi di dischi in cobalto cromo e titanio chiedo scusa è l'usura delle frese queste frese credetemi hanno un costo decisamente molto molto alto cosa significa significa che se io consumo tante frese per fresare un disco la mia produzione avrà un costo più elevato mediamente il consumo dell'utensile è di circa 1 euro e 70 ad unità con un disco ottenuto con la tecnica di fusione e trattamento termico questo costo scende a 1,19 perciò la differenza per ogni unità fresata è intorno a 0,50 centesimi a elemento sul disco in meglio ci stanno 30 elementi pensate che avere un disco di questa tipologia può far ridurre dai 14 e 15 euro l'usura di una fresa che è un costo già decisamente abbastanza alto ok e i vantaggi ovviamente per chi fa questo tipo di lavorazione con questi dischi sono molto molto alti perché la riduzione dell'usura degli utensili è quasi del 30% ovviamente oltre ad avere prodotti certificati e dedicati a quello che è il settore del biomedicale bene signore io devo essere sincero sono andato abbastanza rapido vorrei vedere con Alessandro se ci sono domande per affrontare un po' tutto quello che sono gli aspetti che probabilmente vogliono essere chiariti ancora a seguito di questa mia relazione e per questo momento ringrazio ovviamente tutte le persone che sono collegate con noi i ricercatori che mi forniscono sempre materiale molto attuale su quelle che sono le novità di questi metalli tutti i consulenti della Bego gli amici ovviamente i colleghi grazie Alessandro sono disponibile se ci sono domande perfetto grazie Gaetano per la tua presentazione che personalmente trovo semplice da una parte ma semplice nella compressione ed esaustiva adesso ti porrò delle domande che sono arrivate tramite chat tra l'altro ti porto a diciamo random saluti da più persone da Dino Lorenzo Stefano Paolo insomma tantissime persone Angelo che ti ti salutano grazie grazie da ogni parte d'Italia grazie bene partiamo con con le domande che sono arrivate parto da queste due che un po' si si assomigliano anche se hanno una leggera sfumatura le voglio unire per semplicità le pongono Paolo e Marco e è questa chiede Paolo se è necessario il processo di ossidazione crostruttura in cobalto cromo ok perché te ne aggancio subito un'altra di domanda molto simile perché chiede se nei lavori fresati in cobalto cromo anche questi devono essere ossidati se è necessaria l'ossidazione ok allora io comunque sono costretto a darti due risposte distinte separate e partirei dalla prima è molto importante fare un trattamento alle strutture fresate in cobalto cromo che ci arrivano dai nostri centri di produzione perché perché queste strutture vengono a contatto con degli oli che sono gli oli lubrificanti dei fresatori perciò se questa struttura deve essere preparata per ricevere dei materiali compositi per esempio sulla loro superficie è importante che io gli faccia un trattamento nel forno a 980 gradi per una decina di minuti in vuoto in modo che vado a pulire in maniera definitiva queste strutture poi passerò ai processi di sabbiatura e inizierò le mie lavorazioni per la parte estetica a questo punto ci tengo a precisare una cosa che ceramizzare le strutture fresate non è proprio molto consigliato perché in fase di ceramizzazione si forma nell'ingaggio delle piattaforme implantare se si tratta di lavori su impianti una fase di ossido e questa fase di ossido noi la dobbiamo comunque rimuovere la rimozione di questo ossido potrebbe variare quello che è l'ingaggio della piattaforma implantare fresata con una macchina controllo numerico perciò attenzione le strutture in cobalto cromo fresate non consiglierei di ceramizzarle ma eventualmente di rivestirle di materiali estetici come i vari compositi che ci sono sul mercato e questa è la prima risposta la seconda risposta i trattamenti di ossidazione sulle leghe fuse sulle leghe in laser melting e sulle leghe fresate potrebbero anche non necessitare perché durante la fase di ossidazione il rilascio di ossido di queste strutture è molto molto importante se io faccio una sabbiatura adeguata come vi spiegavo prima a 250 micron la superficie metallica non genera più ossido perciò io non avrò delle spine di ossido talmente tanto lunghe che quando si legano con l'opaco poi tendono a spezzarsi e cosa mi succede mi resta il pezzettino di ceramica dove dentro vi è il nero che non è nient'altro che l'ossido che si è staccato dalla struttura perciò per concludere io non consiglierei l'ossidazione se la vogliamo fare per una verifica delle superfici posti trattamenti termici con le frese ritengo indispensabile dopo effettuare molto molto bene la sabbiatura con biossido d'allumina a 250 micron con la giusta pressione ok? ok grazie ti faccio ti pongo un'altra domanda di di Lorenzo alla quale è una domanda chiede se il bonding va sempre usato prima della città allora dobbiamo rispondere in questo modo perché io utilizzo delle leghe cobalto cromo o nickel cromo utilizzo queste leghe perché costano poco e ho messo nella mia gestione del laboratorio un basso costo dei metalli i bonding generalmente hanno un costo molto importante io capisco che l'utilizzo del bonding sicuramente facilita la resa estetica della ceramica perché il bonding che è costituito da fibre di vetro e ossido di titanio si lega molto bene con il metallo per quanto riguarda l'ossido di titanio e le fibre di vetro si legano molto bene col materiale ceramico ma lasciano sulla superficie un colore dorato perciò facilitano notevolmente quelle che sono le fasi di ceramizzazione e il risultato estetico delle travate quindi se si vuole applicare lo si deve applicare lo si deve far asciugare molto molto bene resta sempre la base che una buona sabbiatura senza bonding ci può far ottenere comunque un buon risultato perfetto per onor di cronaca dico che il messaggio di Lorenza conteneva un'altra domanda e chiedeva dell'ossidazione ma hai già risposto ok dunque scorro un attimo le varie domande allora giampietro chiede se la tecnica di spinaggio che hai appena fatto vedere si può considerare valida o comunque puoi utilizzarla sia per le leghe auree che per le leghe comalto cromo allora il concetto non cambia assolutamente quello che dovrà molto cambiare sarà la dimensione dei perni perché le leghe cobalto cromo come avete visto hanno quasi il 7,5% di contrazione da solidificazione nelle leghe preziose abbiamo leghe palladiate che si comportano quasi molto similmente alle leghe cobalto cromo ma man mano che saliamo con i titoli perciò leghe che contengono ormai più oro la concentrazione la riduzione di solidificazione è ridotta perciò i perni vanno ridotti vedo di essere più chiaro con un 500 millesimi utilizzerò una barra del 3 con una lega palladiata una barra del 4 e con un cobalto cromo una barra del 5 barra 6 ok questo è come indicazioni di massima poi ogni singolo caso va analizzato nel pdf che vorrei mandare a tutti i partecipanti ci sono anche le informazioni sulle leghe preziose perciò potrebbe tornare utile non soltanto per quest'ultimo collega ma anche per qualche di un altro confrontarsi su quelle che possono essere i vari sistemi di imparnatura a secondo delle tipologie di metallo che abbiamo senti grazie un'altra domanda che è posta da Edward chiede se l'impernatura delle barre per lavori tipo la all-on-for deve essere uguale all'impernatura degli elementi dentali o se ci sono differenze in che cosa consistono e unisco anche una domanda abbastanza similare diciamo differente o la tipologia di infernatura per la fusione delle parotesi parziali all'impernatura ok allora rispondo prima su bar e toronto e cose di questa tipologia i concetti che ho cercato di far passare oggi nella mia presentazione sono dei concetti che vanno applicati in tutte le fusioni di fisse perché purtroppo non siamo in grado e Vincenzo Liberati è stato molto più performante di me su quello che possono essere le impernature della protesi rimovibile o della protesi scheletrica lì non abbiamo delle barre di compensazione ma per quanto riguarda invece una toronto o una controstruttura o un controfresaggio da andare a fondere i concetti sono identici e precisi le barre dovranno essere sempre molto importanti perciò delle barre del 5 del 6 sono fondamentali dove metto questi peduncoli è ovvio che se una barra circolare fatta in forma di cavallo non ne metterò 13 14 peduncoli che raccordano sulla barra ma metterò 4 5 6 peduncoli che alimentano la mia barra l'ingresso dei canali sarà differenziato dal peduncolo perciò tutte quelle cose che abbiamo visto sull'impernatura verranno riportate sulla barra mantenendo sempre questi concetti fissi la contrazione di solidificazione di queste strutture generalmente queste Toronto queste barre sono molto grandi sono molto importanti come dimensione come volume ecco perché io devo aumentare notevolmente quelle che saranno le mie alimentazioni per compensare questa forte contrazione da solidificazione del metallo il comportamento fisico di una lega accade sia con un dentino singolo sia su una struttura di 14 elementi con una differenza che il dentino singolo saranno 4 grammi di metallo su una struttura magari ne saranno 25-30 perciò il fenomeno sarà amplificato ecco perché dovrò aumentare quelle che sono le mie impermature bene ti pongo un'altra domanda di Michele Michele chiede qual è la temperatura di pareriscaldo dei cilindri per le fusioni a temperatura ottimale è un argomento grazie Michele perché io non ho avuto la possibilità di inserirlo in questa mia relazione ho dovuto tagliare tantissime cose però questo argomento è fondamentale questa tipologia di leghe ossida soltanto che noi le guardiamo perciò portare il cilindro a temperature molto elevate fa sì che la formazione di ossidi si amplifica notevolmente quindi partirei da una temperatura media di 850 gradi del forno da preriscaldo per fare queste fusioni e non la supererei per nessun motivo ma se ho un forno ben tarato e mi rendo conto che ho dei sistemi di fusione veloci molto performanti come potrebbe essere una nautilus o macchine di questa tipologia posso addirittura scendere a 800-820 gradi per fare le fusioni questo è un aspetto strategico per ottenere superfici molto più levigate molto più belle e più facilmente pulibili dalla sabbia quando faremo la sabbiatura perciò la temperatura di preriscaldo anche questa nel nostro protocollo di lavoro gioca un ruolo fondamentale informo le persone collegate che ho pubblicato un indirizzo email che è italia chioccirabego.com siccome adesso porrò l'ultima domanda al presentatore a Gaetano perché sono molte le domande ma bisogna anche chiudere se voi inviate le vostre domande a questo indirizzo email vi risponderemo personalmente all'indirizzo dal quale avete scritto assolutamente sì Gaetano ti pongo l'ultima domanda è difficile anche scegliere mi dispiace ma non è una cosa non possiamo tenerli inchiodati al computer per troppo tempo allora ti chiedo un una persona chiede mi ha spurgito prima un consiglio cioè un parere che è Luigi e chiede cosa ne pensi della monospina allora io dopo tutto quello che ho cercato di spiegare oggi devo assolutamente dare un'unica risposta sulla monospina la fusione che io faccio in laboratorio segue quelle leggi fisiche che ho cercato di farvi vedere perciò il metallo avrà sempre una contrazione da solidificazione come dicevo prima che si tratta di un elemento o che si tratta di una struttura grande il metallo si comporterà sempre così non lo possiamo scegliere noi questo la monospina se è una monospina strutturata tipo un punto interrogativo che può fungere anche da barra di alimentazione sicuramente funziona ma se io ho solo una cappettina una coroncina da fondere rapidamente perché è un lavoro e devo fare in fretta io credetemi per non rifare il lavoro e avere una buona struttura darei sempre un po' di alimentazione al mio singolo elemento vi ricordate una volta vendevano e forse si vendono ancora non le ho più viste io le spine di fusione dove c'era la pallina direi la spine di fusione già preformata in resina dove c'era la pallina di resina e il peduncolo e si usavano quelle per fondere il concetto è simile a quello che abbiamo visto finora quella pallina di resina serviva da da riserva di alimentazione in fase di contrazione della solidificazione qual è il problema di quella pallina che è in diretto contatto col peduncolo perciò quella pallina non potrà mai lavorare bene perché quando l'elemento chiede lega la sua riserva da dove la prende dal canale d'ingresso della pallina e perciò magari vengono delle porosità proprio sul peduncolo poi per carità se il collega ha un protocollo di lavoro confermato si trova bene e tutto funziona bene e non ha sfiga perché qui a volte poi si tratta anche di sfiga nel nostro lavoro allora gli dico vai avanti con le impernature singole però sinceramente per avere uno standard e non correre rischi e non dire oh madonna devo fondere io penso che sia la cosa migliore ottenere un protocollo più ripetibile possibile più facilmente ripetibile e in grandi strutture invece perché non ci sono solo i piccoli laboratori ma ci sono anche grandi strutture poterlo delegare poter dire alle persone usa sempre una barra del 5 del 6 i peduncoli di questa lunghezza siamo molto più tranquilli che i lavori e tutte le nostre fusioni vengono bene ok? Bene io con io noi con questa domanda abbiamo terminato terminiamo il collegamento vi ripeto e vi invito se avete ulteriori domande di inviarle all'indirizzo email italia chiocciolabego.com e vi risponderemo come vi ho detto prima personalmente quindi vi saluto tanti saluti e ringraziamenti da parte di Bego Italia ne approfitto per informarvi che avremo ulteriori webinar il prossimo sarà martedì 19 tenuto da Alessandro Mecca sulla prototipazione rapida e per l'iscrizione potete collegarvi alla pagina facebook oppure tramite le locandine che vengono inviate vi ringrazio chiudo il collegamento e vi auguro un saluto a tutti una buona giornata e già che ci siamo anche un buon appetito visto che siamo in orario grazie un saluto grazie arrivederci ciao grazie grazie